1851, 1852, una data. Londra, un luogo. Il fiume accoglie la vita, una scelta definitiva. Amleto è il giovane principe di Danimarca, svolta la sua anima per riempirla del dolore del tradimento. Un tradimento che ha assassinato suo padre, un tradimento che ha tentato sua madre, un tradimento che lo porta a ingannare l'amore della sua vita. E il suo amore, Ophelia, non resiste alla tempesta delle emozioni che la travolge. La sua mente si perde e si lascia andare delicatamente in un fiume, galleggiare leggera sulla superficie dell'acqua, per sprofondare lentamente e non essere più. L'artista desidera raccontare quest'ultimo frammento di vita di Ophelia e, dopo aver dipinto il paesaggio, deve ritrarre la giovane che si abbandona cullata dall'acqua del fiume, la figura da inserire nel centro del quadro. Per farlo ha bisogno di una modella, una ragazza che possa stare immersa in una vasca nel suo studio, colma d'acqua scaldata da alcune candele. Ma la seduta e riposa dura più del previsto. Le candele si spengono, l'acqua diventa gelido, la modella si ammala e questa malattia è solo il presagio del suo destino. Mentre Pose è immersa nell'acqua, la modella non lo sa, non sa che il destino di Ophelia sarà il suo stesso destino. L'arte che è vita anticipa la vita. Lei vivrà anni difficili, accompagnata da uno stato di depressione che cercherà di mitigare, cercando un aiuto nel laudano, una tintura doppia, molto amata nell'Ottocento, una sorta di droga che serviva ad alleviare il dolore fisico o psicologico. Alla fine, con un'ultima fiala, deciderà di morire, abbandonandosi alla morte lei come se era abbandonata alla morte Ophelia. Un'opera che viene realizzata in due fasi. Nella prima fase il pittore si dedica al paesaggio e alla sua ambientazione, all'obiettivo di rendere lo sfondo dell'opera il più preciso e realistico possibile. Rimane per cinque mesi sulle sponde di un fiume, dipinge per ore e ore ogni giorno, lasciando vuoto lo spazio centrale del quadro per inserire poi Ophelia. Il paesaggio è vero e naturale, ricco di dettagli precisi, ma non così tanto da renderli innaturali. Dipinge i fiori sia per citare quelli presenti nella tragedia, sia per il loro significato simbolico. E prende forma il papavero, che ricorda il sonno e la morte. La frittillaria vicino al corpo della ragazza, che è sofferenza. La nodine rosso per il dolore. La viola che galleggia sulla veste per i pensieri tristi. E al margine il non ti scordar di me in un blu pallido, per non dimenticare mai. La ghirlanda di violette che orna il collo di Ophelia. Violette che ci parlano di cassità e di morte. Vicino al viso le rose che galleggiano. Loro non sprofonderanno, ma resteranno in superficie a ricordare l'amore, a ricordare la bellezza. E poi le margherite che potrebbe trattenere nella mano per dichiarare la sua innocenza. E poi il dolore attraverso le foglioline di ortica. E infine il salice piangente, inclinato verso di lei, come un'ultima lacrima di un amore perduto. Una precisione nella rappresentazione della natura che deriva da un lavoro meticoloso e lento. Un artista così meticoloso che nel tempo di una giornata riusciva a dipingere solo uno spazio grande quanto una moneta. Al centro, nel fiume, Ophelia. Con la veste gonfiata nell'acqua, che sprofonda inesorabilmente il corpo semisommerso. Restano ancora in superficie le sue mani che sembrano lasciare qualcosa. Il suo viso, i lunghi capelli sciolti tra le correnti e gli occhi. Questi occhi che ci raccontano di uno sguardo che ormai perso nella visione di qualcosa che non è più parte dell'esistenza. Perché il passaggio da un universo o un altro non può che essere accompagnato da uno sguardo che vorrebbe raccogliere tutto in un istante.